Dopo l'annuncio della sua candidatura alle prossime europee, già anticipata lo scorso febbraio a Firenze in occasione dell'incontro regionale del Partito di Forza Italia, Jacopo Ferri, attualmente sindaco di Pontremoli, ha iniziato una serie di incontri con la cittadinanza. Siamo in corsa con questa campagna elettorale, ogni giorno diversi appuntamenti. L'obiettivo è quello di arrivare al momento del voto avendo fatto conoscere la presenza della mia candidatura che vuole essere una candidatura di territorio, una candidatura di concretezza, una candidatura finalizzata a dare rappresentanza alla nostra terra e portarla in Europa per riavvicinare l'Europa il più possibile a noi e quindi poter attrarre i benefici che l'Europa ci può garantire. A massa il primo appuntamento in via Carducci in prossimità della stazione, zona scelta non casualmente da Ferri perché ritenuta interessata da cambiamenti strutturali e di viabilità resi possibili dai fondi del PNRR. Oltre a evidenziare l'importanza di un'Europa non distante dall'Italia, Jacopo Ferri ha voluto sottolineare l'importanza di avere un referente del territorio. Anche per questo è importante votare chi si conosce, votare chi possiamo poi andare a cercare a casa per chiedere le cose che servono, per ottenere le cose che contano.